Rottura del quiz, rimanga Salve, mandi Oh, ecco Che sei venuto a fare? Ecco, volevo No, 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 che sei venuto a fare? Non c'è il quiz Ah, no, è vero! No, il quiz, ci vuole, l'ultimo quiz No, no L'ultimo quiz della pagata, ci vuole Lo faremo, lo faremo già negli spettacoli limitati network Che andremo in giro a fare Sai che è bellissima questa maglietta? È bellissima, è coloratissima Mi è servita poco fa Oh, limitati Allora, volevo due secondi Due? Ma due secondi? Va beh, su Volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito durante questi mesi Sì Tenga un attimo Grazie Allora, comincerei da Abate Giovanni, Abate Girolam, Abate Giuseppa Abate Giuseppe, Abate Ida Abate... Cioè, li vuoi dire tutti? Basta consultare, le leggo, telefoni nella vostra città Grazie Grazie a tutti Siete stati simpaticissimi e gentilissimi A questo punto A questo punto Per farmi contenti Quiz Cosa per ringraziare? Quiz, ci vuole quiz Dai E come sentite? Per ringraziarvi quiz Quiz dell'ultima puntata Quiz dell'ultima puntata Bisogna indovinare? Bisogna indovinare? Qual è? Qual è? Qual è? Qual è? Non lo so Non me l'hanno segnato La prossima Però telefonate Telefonate Bisogna indovinare qual è la prossima città Dove arriverà la carovana di limitati networking tour Esatto Eh, a lei Non lo dico Non si dice No ragazzi È veramente incredibile Non so se fare questo quiz Ma mettete il numero di sovrimpressione Se non lo chiamo nessuno Grazie Io veramente sono contento Che sia l'ultima puntata Sono veramente contento Il numero di sovrimpressione è questo Lo state leggendo tutti E dopodiché siccome suona il telefono Io non ho mai capito perché suona E allora prima, prima telefonata Pronto? 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 Questa voce non mi è nuova Pronto? Pronto? Gaetano Oh, il carissimo Gaetano Gaetano, poeta Poeta, poeta sopraffino Ci vogliamo più, signor Vittorio Eh, purtroppo, purtroppo non la sentiremo fino a ottobre Poesia, Gaetano Non è che vorrebbe lasciarmi così la sospanza fino a ottobre No Poesia Poesia, Gaetano Il pennello Come il pennello, forse voleva dire quello Il pennello Il pennello 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 è un bene mosciarello No, no Non si può, dai, per televisione andiamo Il pennello Sì Va di qua Va di là Quando mai si addrizzerà? No No Era forse il pennello dipinge di qua, dipinge di là E chissà come ci finirà comunque per fortuna E l'ultima puntata Poi a ottobre vedremo Seconda Seconda telefonata Pronto? Pronto? Pronto Stranamente Vittorio! Massimo! Massimo, sono amico tu, ti voglio bene Ma amico di tutti quelli dell'alimentare Della l'alimentare Della l'alimentare Infatti Ormai mi conosce a memoria Ormai non, come posso dire? Dopo dieci puntate come faccio a non conoscere? Senti ma, ma veramente dovete finire? Sì L'ultima puntata L'ultima Ma perché? Perché io spero che non Ma non me lo potete fare Ma io mi ammazzo No Ma io mi butto dal ponte Jumping jumping Alle favole Io faccio jumping jumping senza l'elastico Mi staccio a terra come una numata Non ci credo più alle favole Ormai io ho una certa età No No, no Non ti prego Non mi lasciate solo Fatemi lavorare con voi No Ma questa estate dove siete? È in tour Saremo Dove siete? Saremo in giro E portatemi in giro con voi Mi faccio la dita Mi faccio la ruota di scorta Mi usate Quando forate Mi mettete i chiodi Dovunque Io sono la mostrata di scorta Portatemi con voi Mi conosco Non penso che andremo sulla neve Mi voglio bene Massimo sono Andremo in posti sicuramente legati al mare Sono Massimo Massimo Per questo sì Ti voglio bene Non è che per caso ci vuoi salutare No E Vabbè Arrivederci No Una cosa so Sì Mi portate con voi No Guarda Vorrei dirti Arrivederci ottobre Ma mi è più istintivo dirti addio Spero di non sentirti più E di conseguenza vado per la terza telefonata Limitati qui Siamo tutti disperati E' finito Limitati E' vero E' vero Siamo un po' disperati Non proprio moltissimo Perché io mi levo Da stare con questa gente E qua Di questa gente Non è che proprio sia disperato Però La cosa che veramente mi dispera È che me le devo portare in giro Per tutta la Sicilia Per tutta l'estate Per quello sono veramente disperato Con chi parlo al telefono? Ciao Buongiorno anche a lei Ma va? Signor Pierpiero? Bravo Bello E bravo Grazie Lei è Però È l'unica persona con la quale mi fa veramente piacere parlare Pierpiero Però Me lo dice? Volevo Non lo farà poesia Una poesia anche a lei Che è stata? Tutti che vogliono farà Vola qua Vola là Sì Pierpiero Però Pierpiero Sono tutti disperati E' finito limitati Ma come mai faremo In spiaggia non andremo No no Come no In spiaggia andremo E come E andremo in vacanza Per questo Credo che finalmente Abbiamo finito Sei luce Sei la stella L'estate è ancora più bella Io lo vorrei sempre Questo è un uomo Che porterei volentieri con me in tournée Solo che i suoi impegni Non credo che Ce lo consentano Grazie Forza Juve Ciao E questo è il motivo Per cui io non la porterò in tournée con noi Dopodiché L'unica cosa che vi posso dire E' a dopo A dopo L'unica cosa che vi posso dire